siediti in una posizione comoda con la colonna vertebrale retta fai un profondo respiro e chiudi i tuoi occhi ed entra attraverso il respiro in uno spazio interiore dove ti senti a tuo agio dove stai bene e porta l'attenzione al tuo respiro che è sempre più lento naturale profondo e rilassato e molto lentamente con gentilezza appoggia le mani nel tuo cuore e in questo momento in questo spazio pensa e chiama una persona che ami profondamente non importa se questa persona sia ancora o no in vita e a fianco a te puoi chiamare tua madre tuo padre un fratello una sorella un amico un compagno una compagna un figlio una figlia in questo spazio al di là del tempo pronuncia il suo nome e guardala mentre si avvicina a te e ti sorride e al di là di ciò che è accaduto condividi con questa persona questo tempo questo spazio e in questo momento guarda i suoi occhi e semplicemente ringraziala come se fosse l'ultimo istante concesso e ringraziala per la sua vita per ogni momento per ogni carezza per ogni abbraccio per ogni istante che avete condiviso e ringraziala anche per ogni dolore per ogni assenza per tutti gli istanti che sono stati concessi ringraziala per la sua vita per questo incontro per la sua presenza nella tua vita e ringraziala parlandole come se fosse davanti a te come se questi fossero gli ultimi istanti in cui puoi aprire il tuo cuore e donarlo ringraziala per le ultime cose per le più importanti Parlale ora. Grazie per... E lentamente adesso, mantenendo gli occhi chiusi, apri le tue mani e poggile verso la persona. E offri a questa persona questo istante, questo momento di condivisione, di presenza e guardala mentre prende quella luce, il tuo cuore, questo istante, dalle tue mani e lo porta nel suo cuore e ti sorride e ti ringrazia a sua volta. Questo è il tuo dono per lei, ovunque lei sia. E guardala adesso mentre mette nelle tue mani il suo cuore, questo istante, la sua vita. E lentamente riporta le mani nel tuo cuore, accogliendo questo dono, la sua presenza, la sua esistenza, la sua vita e il vostro incontro. E ora inspira e porta questo dono in te. E con semplicità, con umiltà, mentre la guardi, pronuncia queste parole di lei. Io ti libero, io ti lascio andare. Inspira come se fossero gli ultimi istanti che vi sono concessi e soffia dalla bocca aprendo le tue mani. E guardala, mentre ti ringrazia, ti saluta e vola via nel luogo più elevato dove puoi ricevere ciò che avrebbe voluto darti. Presenza, cura, amore. E lasciala andare, lasciala libera. E in questo istante, semplicemente, torna in te. Torna al tuo respiro. Ritorna al tuo respiro. Che è profondo, pieno, grato, consapevole. E fai un semplice pensiero di ringraziamento alla vita, al dono della vita. E fai tre profondi respiri. E al terzo, soffiando l'aria dalla bocca, lentamente apri i tuoi occhi e riprenditi. E al terzo, soffiando l'aria dalla bocca, lentamente apri i tuoi occhi e riprenditi.